Ragazzi, usate questo modulo con le tattiche che a breve vi dirò e vincerete, forse, se avete le mani e la testa. Ma comunque se usate questo modulo e queste tattiche avrete buone possibilità di vincere, mettiamola così. Forse, sempre se avete le mani. E quanto costa questo modulo miracoloso e queste tattiche fantastiche? Mi devi dare 2 milioni di euro. 2 milioni di euro, mi devi dare cash. Facciamo così. Tu lo prendi, gratis. Lo dai a qualcuno, ti fai dare dei soldi e facciamo a metà. Poi, vuoi fare un business? Che genialità, che ingegno, che lampo di genio. Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play. Oggi siamo di nuovo insieme per le mie nuove tattiche. Lo avrete sicuramente capito dal titolo, da quello che ho detto nell'intro. Si tratta delle tattiche che vanno inserite nell'ultimo modulo. Se lo siete persi, ovviamente, andatevelo a recuperare. Con queste tattiche, ragazzi, attualmente sono in top 360. E secondo me sono davvero molto molto efficaci. Adesso vi dirò di più, quindi mi raccomando, guardate tutto il video. Ragazzi, se volete supportarmi, ovviamente, iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate like. Arriviamo almeno a 80 mi piace e vi pubblicherò un nuovo modulo, molto molto efficace. A parte questo qui, che vi mostrerò quest'oggi, con annesse istruzioni. Inoltre, vi ricordo che faccio lezioni private su questo gioco. Se volete contattarmi, ovviamente, trovate i social in descrizione. Vi lascio anche il link del mio gruppo Telegram dedicato ai football nel commento fissato in alto. A correte numerosi, perché siamo quasi 1300. Ok, ragazzi, come dicevo, io con questo modulo attualmente sono in top 360. E che dire, ragazzi, lo conoscete se avete visto l'ultimo episodio, anzi, il penultimo episodio del Rottuglori. E ovviamente aspettate le istruzioni individuali, aspettate la descrizione di tutto lo schema che adesso avverrà. Allora, come sempre, consiglio un portiere offensivo per contrattacco o contropiede. Ma se volete usare il difensivo, va bene, basta che sia alto. Io lo prediligo offensivo perché, anche se qualche ignorante dice che non è vero, ma in realtà il portiere offensivo va un po' più incontro. Quindi non resta fisso nei pali e nell'uno contro uno è più forte. E quindi, ecco perché consiglio l'offensivo. Però, ripeto, va bene anche il difensivo, basta che sia alto. E che, secondo me, almeno deve fare il rinvio teso. Perché senza rinvio teso è più difficile ripartire con il contrattacco e con il contropiede. Poi, la difesa schierata in questo modo qui, quindi una difesa a 4 con 3 DC e un terzino destro. Abbiamo due incontristi. Un incontrista sulla sinistra con una velocità superiore o uguale all'85, perché deve essere scattante, almeno un minimo, sulla fascia. E statistiche difensive importanti. Quindi, sopra l'88, sopra i 90. Quando parlo di statistiche difensive, ormai, se mi conoscete lo sapete, intendo comportamento difensivo, contrasto, aggressività, coinvolgimento difensivo. L'altezza, almeno sopra il metro 84-85, insomma, non deve essere proprio bassissimo. Poi, passiamo all'altro incontrista, perché, come ho già detto, anzi, se non l'ho già detto, lo dico adesso, non mi ricordo. In ogni caso, sono due incontristi, uno sviluppo e un terzino offensivo, che può essere anche un terzino difensivo. Comunque, continuiamo parlando del secondo incontrista di questo modulo. Deve essere un incontrista con le stesse caratteristiche di quello che vi ho mostrato prima. Quindi, ottime statistiche difensive, e abbiamo già detto quali intendo per statistiche difensive. Una buona velocità, in questo caso è 83, ci accontentiamo, perché comunque è un giocatore molto forte, e tra 83-85 non c'è un abisso, non cambia tantissimo. L'altezza sopra il metro e 85, questo è fondamentale. Lo sviluppo o il collante? Perché ho il collante? Adesso vedete nelle istruzioni, perché questo collante sembra uno sviluppo, innanzitutto, perché, anzi, è pure più forte di tanti sviluppi. Perché Rijkaard è buggato, e perché per farlo diventare un collante, diciamo, agisco nelle istruzioni. Però, però, se voi non avete Rijkaard, cioè l'unica motivazione per cui io non uso uno sviluppo e metto un collante con l'istruzione è perché è Rijkaard, per quello, perché è questo giocatore qua, altrimenti io avrei messo uno sviluppo. Quindi, se avete lo sviluppo con una buona velocità, sopra gli 80, servono tutti i difensori veloci con questo gameplay, per forza, e con statistiche difensive importanti, sopra l'88, e con 88-90, diciamo, e con un'altezza superiore al metro e 88, mettete lo sviluppo. Altrimenti potete mettere il collante e agire nelle istruzioni, come vi mostrerò a breve. Non è che per forza Rijkaard, metti caso che avete un'ottima carta assurda di Fabinho, che può giocare anche DC, quello è un altro che si può mettere al posto dello sviluppo e poi andare a agire nelle istruzioni individuali, come vi mostrerò a breve. Comunque, ho collante, che può fare il DC, se è sgravato come Rijkaard, altrimenti sviluppo. L'importante è che abbia, comunque, le statistiche che vi ho descritto. Ah, un'altra cosa importante è un passaggio raso terra, qua addirittura a 88, perché Rijkaard, cioè, questa è la motivazione pure per cui scelgo di mettere lui con l'istruzione che poi vi mostrerò, perché comunque deve avere un ottimo passaggio, ma per ottimo io intendo almeno sopra il 77, 75, 77, qua vabbè è sgravato, arriva a 88 e vabbè, però comunque serve nello sviluppo un'ottima statistica a livello di passaggio raso terra. Maicon, qui, terzino offensivo, ma non perché ci vuole il terzino offensivo, tanto poi agiremo nelle istruzioni, ma perché lui è velocissimo, 99 di velocità. Qua il terzino deve avere almeno 87, 88 di velocità, deve correre, e le statistiche difensive, quindi comportamento, contrasto, aggressività, coinvolgimento, devono essere importanti, almeno verdi, almeno verdi, ragazzi, e poi il passaggio raso terra anche, almeno verde, perché se no sbaglia tutti i passaggi sulla fascia. Quindi va bene anche il terzino difensivo, stavo dicendo, non per forza offensivo. Io ho messo offensivo perché quello più forte che ho è lui, cioè anche a livello difensivo è fortissimo. Intanto poi, ripeto, agiremo nelle istruzioni. Prima però finiamo di descrivere il modulo. Qui la coppia di mediani, che vanno messi in linea con i due difensori, abbiamo tra le linee, che non deve essere per forza pirlo, io ho tutti i giocatori epici, perché è chiaro, quelli ho e quelli metto, però vanno bene anche altri tra le linee. Ne volete sapere uno? Kimmich, ragazzi, uno che si può utilizzare al posto di pirlo è Kimmich. Deve avere buone statistiche difensive, come del resto ha Kimmich, una velocità nella media, non velocissimo, cioè se è più veloce ovviamente meglio, però almeno il 73-74 di velocità lo deve fare, e poi deve avere i piedi buoni, quindi buon passaggio raso terra, passaggio alto, cose che chiaramente Kimmich ha. Ecco perché io consiglio Kimmich quando non si ha pirlo. Poi se avete pirlo, o un altro tra le linee con queste statistiche qua, mettetelo, anche le statistiche difensive, vedi, sono verdi, e il contrasto, vabbè, è quasi verde, però Pirlo anche ce le ha le statistiche difensive. Credo che Kimmich ce le abbia più alte comunque, però io mi trovo bene con lui. Poi, affiancato qui a Pirlo, qui per forza è il tra le linee, per quanto mi riguarda, perché fa la fase offensiva, fa la fase difensiva, gestisce il centro campo, piedi buoni, difesa buona, però qui a fianco avete due stili a disposizione. Io, se mi seguite lo sapete raga, io di solito permetto sempre a centro campo di utilizzare due stili, incontrista e collante per difendersi. Quindi, qui, o mettete l'incontrista, o mettete il collante, che sono due stili che non fanno assolutamente la stessa cosa. Io, con questo gameplay, prediligo l'incontrista, che va più avanti. Il collante chiaramente sarà abbastanza indietro, Ma perché li consiglio tutti e due? Perché anche se fanno movimenti differenti in campo, a livello fisico, a livello di statistiche sono simili, devono essere simili per giocare qui. Ad esempio, Vierat, 1,92 m, statistiche difensive assurde, un buon passaggio e una buona velocità, potrebbe essere abbinato, se non si ha l'incontrista, magari a un collante tipo Fabinho, lo so che l'ho detto anche prima in difesa, però quello è fortissimo Fabinho e può fare anche il mediano e ha i piedi buoni, ha ottime statistiche difensive e ha una velocità discreta. Come incontrista, ragazzi, si va un po' più in difficoltà a trovarne uno di spessore che non si avvierà chiaramente, però vi assicuro che se cercate un attimino, ho altre leggende ovviamente, però vi assicuro che se cercate un attimino, spulciando, non è che ve lo posso dire io, dovete spulciare voi, giocatori incontristi mediani, e dovete cercare di beccare uno con le statistiche difensive buone, una buona velocità, una buona altezza, e i passaggi, deve saper fare i passaggi, almeno verdi devono essere, sopra l'80. Qui, regista creativo, assolutamente, è obbligatorio il regista creativo sulla tre quarti, secondo me, con questo gameplay e con questo schema, perché deve gestire i passaggi, ragazzi, sbagliano tanti passaggi, quindi abbiamo bisogno di uno con i piedi buoni, con il buon dribbling che si libera, io metto Baggio ovviamente, ma voi potete mettere anche giocatori normali, tanti registi creativi se ne trovano tanti buoni, le statistiche che dovete seguire più o meno sono queste, ottime statistiche offensive, è un'accelerazione sopra la media, quindi almeno 87-88, l'altezza non è importante in questo caso, anche nel tra le linee, l'altezza non ce ne frega proprio niente, mentre qui nell'incontrista collante è fondamentale, sopra il 1,88 almeno, va? qua è un 1,92, viera, siamo al top proprio, poi due registi creativi, uno qui di piede destro, io metto Neymar, non mi dite chi metto, chi metto, chi metto, tutti quanti hanno Neymar, mettete Neymar e non scassatela, perché quello è uno dei giocatori più forti del gioco in qualunque sua versione, quindi mettete Neymar, mannaggia vostra, e altrimenti Ronaldinho, insomma ce ne sono, ce ne sono, però Neymar eppure in tante versioni è anche gratuito, quindi non avete scuse, altrimenti le statistiche devono essere importanti a livello di dribbling, passaggi, comportamenti offensivi, in generale tutte le statistiche offensive, anche se questo comportamento offensivo è un po' basso, ma è buggato, lasciate stare, e poi l'accelerazione sopra l'88, sopra il 90, di piede destro, sulla sinistra, qui, sulla destra, di piede sinistro, ma le statistiche da seguire sono esattamente le stesse ragazzi, quindi veloce, scattante, tecnico, piedi buoni, qua invece ci va un opportunista, secondo me questa è una scelta obbligata, perché l'opportunista, soprattutto se giocate con contrattacco, scatta in avanti, già col contrattacco i giocatori scattano di loro in avanti, le punte soprattutto, ma la carta opportunista proprio va a valorizzare ancora di più questo stile di gioco, quindi è fondamentale utilizzare l'opportunista, e le statistiche devono essere quelle che vedete ragazzi, Rummenigge ovviamente è il più forte del gioco, questa è nella versione vecchia, adesso è uscita una versione ancora leggermente più forte, però non è che cambia un abisso, se non avete questo tipo di giocatori, banalmente Mbappé, perché Mbappé è il più simile, altrimenti ce ne sono, Tell, Muriel, insomma ne potete trovare, potete svariare veramente sugli opportunisti che il gioco, cioè non mancano, portatevi i cambi, ovviamente i cambi per, almeno per il mediano, per il trequartista che si stanca, e per la punta, in difesa si stancano meno con questo modulo, sto notando, vabbè ma pure che i miei hanno resistenza alta, comunque fatevi una bella panchina, rispettando gli stili di gioco, quindi vi portate gli incontristi, gli sviluppi, vi portate il tra le linee, il regista creativo, l'opportunista, insomma, e mettete anche qualche stile differente, tipo rapace d'aria, ogni presente, perché? Perché se la squadra è un giocatore chiave, perché se la squadra non gira, come sempre, dovete cambiare gli stili di gioco individuali, togli il regista creativo, metti il giocatore chiave, togli l'opportunista, metti il rapace d'aria, togli lo sviluppo, metti l'incontrista, togli l'incontrista, metti il collante, tutta questa tarantella, ovviamente switchando anche i moduli, cercando di far girare la partita, è l'unico modo, secondo me, quando la partita non gira, è l'unico modo, questo modulo va abbinato a una tattica secondaria, e questa qui, la tattica secondaria, basta che la copiate, raga, è inutile che, cioè, anche perché i giocatori sono identici, serve semplicemente, per allargare un pochettino il gioco, ed essere un pochino più offensivi, che Pirlo va avanti, facendo questa cosa, istruzioni individuali, difensivo, sul terzino, ecco perché, vi dicevo, non è importante difensivo-offensivo, perché tanto noi gli schiaffiamo in capa, l'istruzione difensiva, e quindi rimane dietro, e poi difensivo sul Raikard, il collante, che sono andato a mettere in difesa, perché? Perché collante, ragazzi, quindi giocherebbe senza stile, quindi c'è, perché il collante, il DC non è attivo lo stile, quindi c'è il rischio, che faccia un po' a cavoli suoi, no? Non rimane dietro come lo sviluppo, ma se noi, ci mettiamo il difensivo, questa carta si comporta come uno sviluppo, ve lo posso assicurare, provate e vedrete, contropiede su Rummenigge, contropiede su Neymar, tattica secondaria, stessa cosa, difensivo, Maikon, difensivo sul collante, Raikard, contropiede, contropiede, se ovviamente andate a mettere, al posto del collante in difesa, come ho fatto io lo sviluppo, non serve più l'istruzione difensiva, questo è chiaro, bene ragazzi, io direi che per questo video può bastare così, fatemi sapere ovviamente nei commenti, che ne pensate di questo schema di gioco, lo state utilizzando, vi sta aiutando a vincere numerosi qui sotto, io come sempre vi ringrazio per essere stati mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video, un abbraccio, un saluto, la vostra Simo Play, bella ragazzi!